Non bastavano i problemi economici e strutturali, non erano sufficienti i sacrifici perché il Foggia Woman, società di calcio femminile che ha riportato il movimento in città dopo quasi 40 anni e che al pronti via ha trionfato aggiudicandosi la finale di Coppa Italia, ora lamenta il completo disinteresse nei propri confronti da parte di un'amministrazione comunale, quella di Foggia, che a loro dire si è dimostrata insensibile e completamente disinteressata. Eppure, spiegano quelli della Foggia Woman in una nota, ci aspettavamo tutt'altro visto che a trionfare sono state delle ragazze foggiane che hanno dato lustro alla città con le loro gesta sportive. Paradosso dei paradossi disinteresse di un'amministrazione comunale che è prevalentemente composta da donne. Anche nel giorno della finale, vinta ai rigori contro il Fasano, c'erano amministratori comunali in rappresentanza della città brindisina. Da Foggia invece nessuno è venuto se non i nostri appassionati tifosi, spiega il responsabile della comunicazione del club femminile rosso-nero. Delusione dunque per chi si aspettava un cenno, un messaggio di congratulazioni piuttosto che un invito a palazzo di città. Come d'altronde si conviene in casi come questi. Comeppure, diciamolo, sarebbe obbligatorio quando c'è qualcuno che dà lustro alla città. In questo caso ragazze in una città amministrata da un sindaco donna e da una giunta molto colorata di rosa che questa volta tende a mutare colore però perché in effetti un po' la cosa fa arrossire.